Ciao a tutti, sono Mattoli Cidra, UDAB, e qui con noi Rodolfo Bianchi, voce Michael Douglas, Zenigata e Ray Davos del Trono di Spade. Eh, esatto. Sei tutto. Sì, sì. Vuoi fare un saluto a tutti i miei amici di UDAB? Grande saluto a tutti. Spero di vederti, di conoscermi. A presto. Grazie. Ciao.